Tanti piccoli comuni per un'unica valle, quella del Serrapotamo. Un sogno, liberare quest'area interna dall'isolamento. Ci provarono nell'ormai lontanissimo 1970 con il primo appalto da parte del comune di Calvera del primo lotto di poco più di un chilometro della strada Serrapotina. Poi gli anni passarono, diventarono decenni e nel mentre ci furono gli appalti dell'ente irrigazione della comunità montana della provincia di Potenza e così via. Una strada figlia di tutti e figlia di nessuno, che attraversava comunità che come un inconsapevole Penelope vedeva chilometri d'asfalto realizzarsi, mentre quelli già realizzati deperivano. E così all'infinito. L'arteria dei sogni per questa comunità è stata il centro di un incontro molto partecipato, organizzato al Calvera, al quale hanno preso parte, oltre che gli amministratori dell'area, di quelli interessati agli ultimi interventi mancava solo senise, e i vertici della provincia di Potenza. E proprio l'ente provinciale ha appaltato i lavori per poco più di 9 milioni di euro, i cantieri al via in primavera, per il completamento di uno dei tratti. Poco più di 4 chilometri, di cui una parte di nuova realizzazione e 2 chilometri e 70 di completamento. Presidente, la Serra Potina è più vecchia di lei. Attualmente negli ultimi mesi si sono raccontati degli spiragli importanti per quanto riguarda l'inizio dei lavori per il completamento. È una strada che ovviamente va riqualificata anche nei tratti che già esistono da molti anni. Attualmente qual è la situazione? Ci sono sicuramente notizie positive. La notizia positiva è che la gara è giunta a termine, è stata espletata. Siamo nella fase della stipula del contratto, dopodiché si passerà all'immissione in possesso di alcuni terreni espropriati e presumibilmente i lavori inizieranno in tarda primavera. L'obiettivo della provincia è di chiudere l'intero intervento entro la fine del 2024. L'incontro di oggi è proprio l'occasione per fare un po' il punto della situazione. Ci tenevo particolarmente che questa riunione fosse fatta proprio sul territorio, in particolare qui a Calvera, a dove tutto è nato, per portare le istituzioni a parlare direttamente con i cittadini e per far vedere, oltre che raccontare, gliel'abbiamo raccontato tante volte la Serrapotina, sia in provincia che in regione, però farli venire qui sul posto e fargliela percorrere perché si rendano conto dell'effettiva situazione.